Anticipazioni Una Vita. Lolita fa una scoperta scioccante su Ramon nelle ultime puntate della sop iberica Ecco cosa succederà. La serie tv Una Vita è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid Foto da Canva per chi si affaccia per la prima volta a questa sop iberica, possiamo dirvi che Una Vita racconta le vicende appassionanti delle famiglie della Serma, Pasamen, Alvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Baccialupe, Quesada, Olmedo Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrigli, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias Una Vita, anticipazioni, Lolita contro Ramon Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le ultime puntate conclusive per raccontare le sue storie, intrighi e passioni delle famiglie di Acacias Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno per giungere alla loro naturale conclusione Oggi vi vogliamo parlare nel dettaglio della scoperta scioccante di Lolita, Rebecca Aleman La bottegaia scoprirà infatti che il suocero Ramon Palacios, Giamma Navas, è immischiato insieme a Fidel Soria, Alejandro Siguenza, in diverse azioni a sfondo criminale Un vero e proprio shock per la moglie di Antonito che grazie all'avvertimento di Valeria sul sequestro di David Exposito, Aleish Rangel Mecca, comincerà a nutrire dei forti dubbi sul conto di Fidel L'uomo, le aveva raccontato di trovarsi fuori città per lavoro ma in realtà non era così Insieme a Ramon avevano architettato di sequestrare e uccidere l'exposito sotto ricatto di Aurelio Chessada Carlos di Austria Dunque la vedova Palacios deciderà di inseguire il funzionario di polizia e si troverà di fronte ad una scena incredibilmente assurda, un appartamento segreto in cui Ramon sta per sparare un colpo di pistola in aria perché non riuscirà ad uccidere David In preda al panico per aver visto ciò che non si aspettava, Lolita comincerà ad avere una vera e propria crisi di nervi con attacchi di panico Ramon, così la condurrà in ospedale